Buongiorno a tutti, oggi proverò a colorare i capelli di rosa a mia figlia. Ho comprato questo prodotto d'acqua e sapone e l'ho pagato 2 euro. Se vi piacciono questi tipi di video, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un like e qualche commento. Adesso vi farò vedere il procedimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.